Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, sono Mauro Caimi qui con voi. Oggi parliamo di quello che sta succedendo in questo momento sui mercati hold, cioè sugli indici di borsa mondiali che sono in forte ripresa e anche qualche stocks americana che sta iniziando a fare balzi a due cifre. Anche l'Italia va benissimo, borsa italiana guadagna in questo momento intorno al 6%, è finita la crisi dovuta al cosiddetto virus, è passato tutto, abbiamo già messo tutto nel dimenticatoio, nel cassetto abbiamo chiuso e stiamo riprendendo un trend rialzista. Allora, oggi parliamo di questo argomento e cercherò di spiegarvi come sto ragionando io relativamente ai mercati hold, perché l'occasione, non vi nascondo, è ovviamente molto ghiotta sui mercati, perché i mercati hanno ritracciato tantissimo e quindi abbiamo dei titoli che solo pochi giorni fa ragazzi erano a prezzi esorbitanti, abbiamo titoli che si sono quasi dimezzati, quindi possiamo andare a fare uno shopping compulsivo e andare a magari creare un portafoglio di investimenti che può essere ritenuto un portafoglio di lungo periodo che poi magari potrà portarci buoni risultati. Prima di azzardarci al famoso buy the tip, quindi mentre i mercati crollano, dobbiamo fare una serie di considerazioni. Oggi vi faccio vedere in questo video più o meno come ragiono io in questa fase di mercato, ma poi faremo anche una serie di video sul canale per cercare di capire se si verificano alcune condizioni che potrebbero magari indurmi a dire ok questa stocks me la compro ragazzi. Ok, faremo una serie di video su questi argomenti, quindi ragazzi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto se volete nuovi aggiornamenti vi faccio vedere come ragiono, quali sono gli indicatori che in questo momento sto utilizzando per vedere la situazione sul mercato e quali sono i miei ragionamenti. Oggi faremo quello relativo all'analisi tecnica ragazzi, perché poi io sto ragionando anche in termini di indicatori di natura macroeconomica e di analisi fondamentale che affronteremo in un video successivo. Spostiamoci quindi a guardare i grafici, ho davanti a me in questo momento lo standard, è PURS 500 ragazzi, lo so, neanche Bitcoin fa un ribasso di questo tipo. Adesso vi faccio ridere perché ragazzi poi certe volte dovremmo mettere la funzione logaritmica anche sull'SP 500. Scherzi a parte ragazzi, allora SP500, questo è il future, lo trovate su TradingView. Ragazzi se volete operare su questi mercati, tra le altre cose perché me l'hanno chiesto un sacco di persone via mail, se volete operare su questi mercati e non siete iper esperti per aprire un conto magari molto importante, allora andate a utilizzare un conto CFD di un broker che magari può rendervi le cose più semplici nella prima parte, quindi magari fare qualche centinaio di dollari, di euro, di investimento, una cosa molto piccola, iniziate a prendere di mistichezza a ragionare su questo tipo di mercati che sono gli indici di borsa. Vi lascio un link del mio conto CFD che è quello di XTB, quello che io utilizzo con la loro piattaforma perché lo ritengo assolutamente valido, molto semplice, anche c'è un'ottima assistenza, quindi vi lascio il link in descrizione. Andiamo a vedere come sto ragionando io, questo è il mio workspace relativamente ai mercati old, lo uso a volte anche sui mercati Lcrypto ma non spesso perché ritengo i mercati Lcrypto più utili utilizzare magari una ciclica e altri tipi di indicatori. Allora ragazzi, intanto sull'SP500 per un'analisi mettiamo un weekly, così facciamo un'analisi di lunghissimo periodo, guardate un po'. Intanto cerchiamo di capire dove siamo sull'SP500. Ragazzi, l'SP500 che è l'indice americano più grande, quello con le 500 aziende più capitalizzate del mondo è un faro per il sistema finanziario mondiale, è ritornato a febbraio e a gennaio 2017. Ragazzi, quindi ragioniamo un po' quando si parla di lungo periodo perché siamo nel 2020 e in poche settimane, due o tre settimane l'SP500 ragazzi è tornato indietro di tre anni. Quindi tutti quelli che hanno investito nell'SP500 senza una stock picking adeguato, quindi immaginando di avere un ETF che ha comprato questo mercato negli ultimi tre anni sono tutti in perdita in questo momento ragazzi. Ok, questo per farvi capire come il timing sui mercati finanziari è una variabile chiave nonostante i mercati finanziari hanno dimostrato nel tempo di crescere perché? Perché ci sono delle strutture macroeconomiche che si vuole utilizzare ragazzi, altrimenti stiamo attenti. Infatti qui ci sarebbe da aprire una parentesi molto importante sull'attuale crisi che certamente non è paragonabile a quelle precedenti che abbiamo avuto ragazzi. Comunque in linea di massima andiamo a vedere che il trend, vedete, di lunghissimo periodo dell'SP500, quindi quello che era iniziato, per farla breve, dai minimi del marzo 2009, marzo un'altra volta ragazzi, questo era il più grande bull market della storia di Wall Street, il più grande bull market ed ha chiuso la sua fase di rialzo proprio nella scorsa settimana ragazzi con il break della famosa trend line che univa tutti questi minimi ragazzi. Trend line che non era mai stata rotta, qui parliamo di un break settimanale, quindi non è un break di una candela a 15 minuti ragazzi, è un break pesante, anche di una candela settimanale, quindi assolutamente rotto questo trend in questo momento, perché ci sono due segnali, prima il breakout della trend line e poi il breakout dell'ultimo minimo da cui era partito l'ultimo ciclo rialzista, vedete, questo minimo fatto a dicembre del 2018, quindi più di un anno fa. SP500 distrugge praticamente questi trend e dichiara finita questa fase di uptrend, questo bull market gigantesco che aveva preso Wall Street dal 2009 insomma. In questo momento c'è un'inversione di trend, oggi è martedì ragazzi, questa settimana come la vedete qui, indicazione su TradingView, ci dà un più 2,80%, perché? Perché ieri il mercato ha perso, quindi oggi sta salendo e sta facendo un rialzo in questo momento del quasi 6%, ancora i mercati di Wall Street non sono aperti, quindi questo è il future che invece è già aperto, vedete ragazzi, sul grafico daily ve lo ingrandisco e vi fa vedere esattamente la candela verde in questo momento che sta facendo questo plus, più circa 6%, insomma più o meno aumenta ancora. Allora, come facciamo a valutare questo rimbalzo? Intanto, prima regola che vi do per fare, per iniziare diciamo a fare trading su questi mercati, hold ragazzi, prima regola, allora non fate trading intraday in questo momento, su questi mercati, se non avete l'esperienza adatta, perché semplicemente sono mercati che in questo momento stanno subendo una forte volatilità in base a quella che è la loro storia, quindi siamo in un momento estremamente delicato, quindi non iniziate certamente a fare trading magari su un indice, su un future di borsa in questo momento in day trading. Vi consiglio invece la possibilità di poter iniziare a fare qualche operazione di trading di natura settimanale barra mensile, quindi una massimo due operazioni in mese, soprattutto se siete neofiti ragazzi. Allora, è molto semplice ragionare. In questo momento le mie due medie che io disegno, che seguo, vi dico chiaramente, per gli investimenti di lungo periodo, sono due semplicissime EMA, quindi medie mobili esponenziali, a in questo momento 11 e 22 periodi. Mi piace usarle così ragazzi, perché non ve lo dico, semplicemente un giorno magari ve lo dico, non lo so. Se vi iscrivetevi al canale e mi mettete mille mi piace su questo video ve lo dico, però se mille mi piace non li raggiungeremo mai ragazzi. Va bene, se li raggiungiamo ve lo dico. Va bene, scherzi a parte. Allora, sono due EMA, va bene, allora, in questo momento vedete come il ribasso è stato praticamente come una bolla speculativa al contrario ragazzi, quindi è in crash proprio regolare. Quindi in questo momento non c'è nessun recupero da parte dell'SP500, nonostante il più 6,50 in questo momento, vedete, siamo a più 6,50 di oggi, ancora adesso non c'è recupero e non c'è nemmeno un'inversione di trend, perché guardate un po' ragazzi, è assurdo dirlo, però è così, guardate la candela precedente, quella di ieri era, comunque aveva un massimo superiore anche all'attuale prezzo di massimo di questa giornata, perché oggi siamo con un massimo a 2378 e ieri era 2386 ragazzi, quindi non abbiamo ancora superato neanche i massimi di ieri in questo momento ragazzi, quindi badate bene, non c'è nessuna inversione. Quindi questa sicuramente magari è una giornata che si poteva utilizzare per fare trading intraday, ma solo con trading system, insomma la situazione ci complica. dove potremmo dire magari che c'è un'occasione di utilizzo di questo mercato, solo se si va a fare un'inversione con una rottura di queste medie mobili, confermata da un close, dopodiché io mi attenderei, magari farei un primo ingresso sulla forza, dopodiché attenderei un eventuale pullback per rientrare con un'altra porzione. Al momento ragazzi, l'unica operazione possibile su questi mercati in questo momento è l'operazione short selling, quando magari ci sarà un rimbalzo che può portare l'SP500 in questa fascia di prezzo o all'interno di queste due medie ragazzi, ok? Quindi in questo punto o tra 2.500 e 2.600 in questa fascia, tecnicamente ragazzi sarebbe un punto di short selling, quindi in questo momento non ci sono operazioni long da fare sul mercato in questione. Se li avete in portafoglio, se avete SP500 in portafoglio, ormai tenetelo ragazzi, siete contro trend pesantissimo, lo sapete, ne ho parlato che eravamo qui più o meno dicendo che dovevamo chiudere tutte le posizioni, quindi insomma ragazzi ho fatto diversi video, se siete in questo momento così tenetelo. C'è poi magari da fare un'analisi di lunghissimo periodo per cercare di capire qual è il bottom di questo mercato, quale potrebbe essere il bottom, io un'idea ce l'avrei ragazzi, e allora facciamo così. Quindi se vi interessa l'argomento fatemelo sapere nei commenti e cercheremo di fare un video a riguardo anche di analisi di lungo periodo sul mercato del SP500 e sui mercati old in generale. Al momento vi ho dato risposta su come sto operando io, se non avviene questo rialzo almeno in una fascia e poi una fase di consolidamento con un eventuale pullback io non entrerò long su questi mercati. Vedete anche degli indicatori che utilizzo in questo momento RSI e MACD che sono in profondo rosso, RSI mi dice che siamo in ipervenduto ma sul lungo periodo non serve assolutamente niente, mi sta dicendo che siamo semplicemente su una trend fortemente ribassista ragazzi, ok? Sul lungo periodo molto meglio il MACD che è un indicatore di momentum, quindi in questo caso mi sta indicando che siamo in profondo rosso, non c'è un'inversione, neanche un accenno di inversione, vedete, da parte delle due linee che dovrebbero tecnicamente fare un break rialzista, vedete, per indicare una fase, un momentum positivo, quindi in questo momento niente da fare ancora su questi mercati. Ripresa sì, questo è il balzo dovuto alle emissioni di liquidità immense da parte della Federal Reserve, ci sta, va benissimo, prendiamo aria, ma attenzione, attenzione, perché il grafico ci dice che ancora non è cambiato nulla. Ciao, ci vediamo nel prossimo video.